E' là, là ho trovato alcuni, impaganti del loro, e di oggi, a oggi, per un po' di merito, che è un po' di modello di lavoro, a tutti e a tutti, e l'altro, la signora, a tutti e a tutti. E' detto, magari in questo modo giovane potrete interessare quel minuto di un dondo amello, che cosa va a fare? Questo provvigioso anello ha la risposta facilitaria di ammigrare dei monti, dei raghi. Non ci sono raghi qua. Appunto, prossima prova del passo che è il suo anello. Io ho ragazzo, certo. Hai qualcosa che ti dica di più a un guerriero? Forse sì. E' un guerriero come il corpo che fa qualcosa di più. E' l'unico, se non accolto le basi, è l'unico, se non accolto le basi, è l'unico, se non accolto le basi, ma si chiudica il suo anello. Allora, vediamo, devi fare il quotato, se non accolto le basi. Ogni volta, la responsabilità, la responsabilità, il suo indirizzato è l'unico, se non accolto di ammigrare un Mythos e a tutti, che anche le bambi, nel nero, questo scolto di ammigrare uno al mondo. Come è, come è quella di ammigrare? Ma è finta, ma è finta, ma è finta, ma è finta. Ma è finta, ma è finta, ma è finta. Ma è finta, ma è finta, ma è finta, ma è finta. Ma è finta.